musica 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 oddio come mi guardo intorno dell'inquadratura vedo casino cioè qui per esempio qua c'è una roba encasinata e questa roba qui oddio avete sentito musica musica allora poi oggi sto pure vedete ho abbigliamento non da lavoro diciamo molto molto da uscita quindi non mi vado a faticare qui per esempio qua c'è roba encasinata che è sta roba oddio avete sentito dei mi siete voi ora sei tu no che è sta roba oddio avete sentito che è sta roba oddio avete sentito io ero qua non toccavo niente sono cascate giù da lì che è un altro mobile che è staccato dalla mia poltrona sono cascate giù le mele queste cose mi succedono solo quando faccio i live ma che è di che stavamo a parlare no vabbè io c'ho paura no 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 no